il grande compositore americano come fa Davide Cavalini noi con la musica siamo stati dalla Francia all'America mentre Cershwin fa venire un americano a Parigi che cosa le ha sentito mi metto a rivedere cosa sono avete sentito come ha pronunciato che ha scendito si finiva da dire grazie a tutti 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 grazie a tutti